Ciao a tutti, Luigi Grasselli di Reggio Emilia, Maniscalco. Ho partecipato al corso per avere un punto di vista diverso sul lavoro che comunque faccio e propongo agli allevatori in giro per l'Italia. L'interesse era legato proprio a cambiare prospettiva. Ho avuto conferme che c'è bisogno di divulgazione sui problemi gestionali, da come si gestisce una routine podologica e ho avuto ottimi feedback da Marzio e dal collega che si occupa della formazione sulla podologia.